Ehi, abbiamo per caso appuntamento con Leo? No, perché? Perché ci sta seguendo. Fa finta di niente. Chi è Leo? Sarà una coincidenza. Che cosa vuole? Beh, vediamo di scoprirlo. Sì, già. Ma perché non te ne vai a fare in culo? Se vuoi una spittarella, te la do io. Ma l'è un carato? Ehi, cercavi noi, Leo? L'avete visto, eh? Sì, t'abbiamo visto. Che fai di bello? Beh, stavo perfezionando la mia tecnica di pedinamento, visto che faccio l'investigatore privato. Obbligo, scocciatore. Hai trovato la macchina giusta per non dare nell'occhio? Sì, è proprio un bacio. Eh, Riggs, chi è il teppista? L'avete beccato, eh? Ah, io sarei un teppista. È certo, tu pegli un giovane nero dentro un'auto della polizia e automaticamente per te è un teppista. Calma. Guardami il vestito, guardami la cravatta. Che cosa sarei? Un contabile della malla africana? Guarda questo distintivo, stronzo. Guarda la pistola. Ok, ok, ok. Metticiù la pistola, metticiù la pistola! Guarda il libretto di circolazione e un campione durina, subito! Guarda che un distintivo anch'io! Un campione durina! Gli ebrei non avevamo la vita più facile da piccoli, quindi non credere di essere l'unico, ok? Ok? E poi lo sapevo che eri un poliziotto, ti stavo solo prendendo in giro. Io la sento la puzza di poliziotto. Ma io puzzerei che vorresti insinuare. Eh, no, e piantala di capire tutto al contrario. Ma quanto sei suscettibile, chiedi a loro. Noi lavoriamo insieme, abbiamo una storia in comune. E chissà, magari un giorno noi due lavoreremo insieme. Io sono una bomba, chiedi a loro, sono forte. Sì, certo, lavoreremo insieme quando aprirò una pizzeria. L'uridonano, bagonghi, bastardo. Eh, io non ti avevo insultato, strozzetto, quindi non cominciare tu. Fammi il piacere, ok? Chiedi a quelli miei amici. Mi scusi, signore, è parcheggiato in coppia. Sì, eh, senta, agente, io stavo parlando con questi ispettori di polizia. Ehi, noi non lo conosciamo. Secondo noi è ubriaco. Sì, fra, dicevo. Mi stanno scherzando. Tornati indietro, ditevi chi sono. Io non sono ubriaco, è una bomba che racconta. Ma perché dovrei alcarne sulla mano? No, lasci stare, ho già sentito l'odore. Ma che cazzo dice come ha fatto? Io non ho nessun odore, non l'ho bevuto. No, lei è in avesso, è in avesso.